Noi sulle zone franche abbiamo credo un impianto legislativo solido, l'impegno economico finanziario più rilevante che ci sia mai stato in una ricostruzione nell'Italia di questi decenni e certamente se ci sono delle obiezioni, noi siamo sempre stati aperti in particolare con i sindaci e in particolare con il sindaco di Amatrice a valutare osservazioni eccetera ma non è stato fatto nulla di diverso da quello che è contenuto nella legge e credo che sia un ottimo impianto anche per le zone franche urbane. Poi se si può fare di più noi siamo disponibilissimi a parlarne con Sergio Pirozzi che merita tutto il nostro consenso e supporto e con i sindaci siamo pronti.